Presidente, abbiamo modificato la parola denuncia con segnalazione, questo per evitare delle formalità nel modo di prospettazione di condotte illecite, opportunamente è stata eliminata la parola abuso e per condotte illecite non si possono intendere che condotte contraleggiano, quindi protette da norme incriminatrici, è evidente, ma è chiaro che noi dobbiamo intervenire pesantemente per evitare che vi sia la segnalazione della delazione, cioè i fatti devono essere stati direttamente percepiti dal denunciante, perché sennò poi si crea una sorta di catena di Sant'Antonio dell'attendibilità, perché aver ricevuto una notizia da terzi o averla percepita indirettamente o avere comunque dei ripari a quella buona fede che abbiamo, secondo me, malamente lasciato nella norma, se io riferisco di aver sentito, di aver percepito che Tizio più o meno noto mi ha detto, e questa diventa una segnalazione utile per scatenare quel meccanismo protettivo che questa legge predispone nei confronti di chi, virgolette, segnala, chiuse virgolette, a me sembra un dato pericolosissimo, perché quanti saranno tentati dal riferire gossip qualificati all'ANAC o addirittura all'autorità giudiziaria e sulla scorta di questi gossip qualificati pretendere di non subire nessuna conseguenza. Io penso che questa emorragia verso l'auto ed etero denuncia debba essere fermata e si debba pretendere che il soggetto che segnala si assuma la responsabilità di aver direttamente percepito la condotta illecita. Questo può essere un segnale che poi può dare anche origine a sviluppi nell'ulteriore istruttoria. Che cosa accade se il soggetto non ha percepito direttamente? Che mentre il principio del dun pendet rendet, cioè la denuncia permane, la segnalazione slash denuncia, che è la stessa cosa, parliamoci chiaro, in una pubblica amministrazione un soggetto segnalato, denunciato è un soggetto che viene messo alla berlina. Oggi la comunicazione è esistere. Un fatto pendente, un fatto che è dato già per scontato, l'articolo 27 della Costituzione è ormai andato a gambe levate via da quest'Aula. È chiaro che quando siamo di fronte a delle denunce anche indirette, noi innestiamo un meccanismo antidemocratico, questo sì illecito e incapace di darci quelle garanzie. Io vi chiedo se ciascuno di noi fosse un dipendente denunciato da un altro collega per un fatto indiretto, percepito e subisse le conseguenze di questa denuncia indiretta. Questo poi sembra un dato che sia digeribile nell'ambito del sistema. Questa è una barbarie. Io vi prego caldamente di votare favorevolmente su questo emendamento per impedire che le voci indirette diventino per il penalizzato soggetto denunciato una mannaia che si abbatte inesolabilmente per anni sulla onorabilità di un soggetto. Noi voteremo favorevolmente. La ringrazio. Ci sono altri interventi? No. Dichiaro aperta la votazione. 1.14. Brunetta, parere contrario. Brandolin. Ha votato Brandolin, tutto bene? Bolognesi, Giammanco, Malisani. Qualcun altro? non mi pare. Aspettiamo la Franco. Bene, la Franco sta votando. Chiudiamo. Dichiaro chiusa la votazione. 106 favoribili, 327 contrari. La Camera respinge. Adesso andiamo al 188 Ferranti, ma ho bisogno prima di sapere sul 154 Agostinelli se si accetta la riformulazione. Quello successivo. siamo a pagina 11, i primi due emendamenti. Si accetta. Quindi a questo punto diventano identici l'118 Ferranti.